E' una giornata veramente tipo l'altra Però ci sono delle grandiosi ragazze oggi Jelena Jelenco Jelena 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 Ivesic Jelena 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 Ivesic Jelenco De Deborah 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 Peppo Debi Peppino Debo Peppino Deborah Gonzales Un applauso E in definitiva abbiamo Sara Sara Canova Sara Sì Sara Senza H finale Quindi tipo Sara Ok Sara Canova Un applauso Now We go to the Savini bar Sapete cucinare bene i dolci I dolci No 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 A lei gli piace mangiare il dolce Allora ti porto a mangiare fuori cara Jelenco Jelenco A dopo Il nostro dono pasticchiere Ciao Deborah Praticamente signori Al Savini oggi Che cosa facciamo? Sempre per quel discorso di culinaria E non pensare male Noi faremo i dolci Iniziamo con i cannoli che sono i più semplici Inizierai a strade la pasta Questa è la giovanile La giovanile della pasta l'acqua Vi piace ragusa e i tifosi ragusani? Yeah If you like And fans And fans Tutto Io sono arrivata da poco però devo dire che da subito Un amore per tutto Un amore per tutto Benissimo Mi sono Sto guardando Dove vieni dall'argentina? Quando torno in argentina ci fai i cannoli No cannoles Sempre li mettono la S allo spagnolo Cannolos Allora ho capito Un cannolo Cannolo Ma lei non hai idea di che cos'è il cannolo ragazzi I know but I never tried A che dà avete iniziato a giocare a basket? A quattro anni E io? Dieci Dieci E tu? Io a quattro anni Quattro anni? Sì mi hanno buttato su un campo I consigli potreste dare a noi ragazze per diventare campionesse come voi? Quindi dolce, allenamento, dormire, dolce e pesi E pesi Cioè dolce c'è sì due volte Sì 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 Non si può fare Sometimes she can miss practice Yeah But no dolce Puoi saltare all'allenamento ma non in dolce Cioè non esiste neanche se Divertitevi che è la cosa più importante Sto diventando siciliana Sto diventando siciliana Un applauso Un applauso Sei in basso di statura come me Ma come fai a bucare le difese così bene? Sei in basso di statura come me Come me proprio No 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 E lo devo fare se no Nino mi butta fuori Lo deve fare perché se no Nino la butta fuori Noi signori Yes They don't see sometimes but she's playing hills Gioca con i dacchi Ah gioca con i dacchi La comicità croata Sto diventando siciliano L'accento c'è So una cosa che si dice tenaghiri no? Tenaghiri Tenaghiri Che torta è? C'è una torta Eh una torta di chiamata Alle fragoline Alle fragoline Buona? Buona? Eh tipo Calacause Ambella 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 Balocco Uff Uff A casa Mangiale Eh sì Ecco Ecco Ora ripalla Ora metterò qua E allora Va bene Va bene Stesa pesa abbastanza Come vi siete trovati con le compagnie di squadra? Vabbè Io sono qui da poco Come si vive questa cosa? Del subentramento Del subentramento Mi piace questa parola No vabbè ovvio Cioè sono entrata in punta di piedi Anche perché caratteramente Però super Tutte Tutte le persone Anche se non avevo giocato mai con nessuna prima Mi sono trovata benissimo Primo numero uno Primo Eh però In Canada Ma mangiare Finalmente Un a me Un a te Un a me Un a te Un a me Un a te Come ti chiami? Sofia Quali sono i vostri ovvi oltre a basket? Skype Skype? Skype You stay Mi e Nino Skype Ah voglio Sì Per le partite Sì sì Ah Ah Vabbè Ora se Ecco Ora se Oh 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 Grazie Ok Ti posso offrire qualcosa ulteriormente Dico Perché hai visto che ancora non l'ha mangiato un ente Che stanno cercando la mia Dove ho fatto questa cosa? Vissi stiamo capendo delle ragazze ci sdegnavo, capisce? una cosa al volo, come finisce questa stagione? step by step sembrano quasi delle giocatrici che non parlano mai allora Miss Cannolo 2015 Temala Gonzalo Iena Miss Tortake 2015 i profiterò il più fighi della storia del cinema passa l'acqua Sara Canova adesso andiamo a fare the shooting match ok vieni vieni attenzione signori nooo Sara nooo 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 siamo pronti via no dai adesso sai che tu non te ne faranno fare neanche uno non ce l'ho no lo so va via va via 3 3 2 va bene non male non male vabbè tanto ce l'abbiamo visto uno così non entro faccio questo così e non entro e va bene signori quest'anno vincere le sue vigili i elemi sara sarah debo racco senza h buon applauso alle nostre ragazze da basket dai ecco mamma mia è solo adesso Grazie a tutti.